bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyulder e anche oggi ragazzi tutte le novità di fortnite racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi parleremo del nuovo annuncio direttamente da parte di epi games per la coppa marvel dedicata a black widow e vedremo alcune cose molto interessanti non mancheranno ovviamente gli aggiornamenti sul galactus sull'evento e sulla stagione 5 di fortnite quindi vi ricordo di non dimenticare di lasciare un bel pollicione in su e grazie grazie a tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è l'argomento più importante di queste ultime ore arriva un tweet direttamente nella pagina ufficiale di fortnite come vedete il simbolo della freccia in giù e della freccia in su e il simbolo del ragno con un'immagine davvero chiarissima fortnite marvel knockout super series quindi la terza coppa marvel abbiamo visto la prima il mese scorso l'ultima l'abbiamo vista settimana scorsa quella di ghost rider e la penultima la vedremo l'undici novembre già in realtà ve lo avevo detto una settimana fa l'immagine è davvero molto molto interessante si intravede ovviamente il profilo della skin e ci sono alcune informazioni che è meglio che ci ricordiamo insieme la prima marvel knockout tournament sarà in duo black widow snow sweet is the skin ora io non ho visto il film di black widow però so che dovrebbe avere due stili quindi il primo in teoria è quello che otterremo con la coppa takes place on november 11 quindi 11 novembre l'orario indicativamente il pomeriggio ma saprò dirvelo meglio comunque lo vedremo nelle notizie di fortnite the black widow snow sweet set as a bundle version as well for the item shop quindi dovrebbe avere completo il bundle piccone deltaplano forse backpack e chi non riuscirà ad ottenerla gratuitamente qualificandosi nella coppa ovviamente la terrà nello shop la domanda che però tutti ci facciamo è ma non ce l'hanno mica già fatta una skin di black widow e si parla dell'anno scorso quando allora c'era dare dead bull quindi quando sono uscite poi tutte le altre skin a tema marvel la risposta è molto semplice e mi sembra anche un po una parata da però come si dice la skin black widow che noi abbiamo di già chi l'ha shoppata non è altro che una skin normale che ha deciso di fare un cosplay di black widow mi sa che si sono un po salvati in corner dicendo una cosa del genere però quindi quella che sapete essere già presente in game non è la skin ufficiale quella ufficiale appunto arriverà l'11 novembre alcune immagini intanto del film di black widow abbiamo anche una possibile variante ovviamente non ufficiale della snow suite quindi la variante neve in questo caso e per terminare una renderizzazione in 3d anche questa non è ovviamente l'immagine definitiva è un concept che però dovrebbe riprendere abbastanza fedelmente come sarà la skin si chiude con il poster dell'evento marvel studios black widow x fortnite quindi ragazzi la penultima coppa marvel è alle porte e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'altra coppa che sta per arrivare appena terminata quella di lachlan e fra poco ci sarà quella di nick e h30 famosissimo anche lui parliamo di streamer con milioni di gente che li segue ovviamente non sono italiani solo tournament never back down never give up il nome dell'evento si farà invece il 22 novembre registrati per sbloccare questo evento questo evento sarà su due round dove il top 99 si qualificheranno per il round 2 quindi ragazzi mi raccomando non dimenticate di registrarvi credo che la registrazione sia possibile dal sito di fortnite come di solito è per i tornei quelli grossi ufficiali in bocca al lupo e vediamo se riuscite a portarvi a casa almeno il secondo turno 10.000 dollari di premio per il torneo questa che state vedendo alle mie spalle è la locandina ufficiale andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono nuovamente degli aggiornamenti delle curiosità sul galactus tutti giustamente ci stiamo chiedendo ma quindi galactus arriva in questa season oppure continua a rimanere lì in cielo avvicinandosi intanto questa è un'immagine dell'otto novembre e questa è un'immagine del nove novembre ve le faccio rivedere a come si dice una dopo l'altra e come vedete ragazzi beh è chiarissimo in questi due fotogrammi quanto si sia avvicinato in un solo giorno il galactus lo si vede benissimo coordinate 256 a metà schermo guardate e vedrete per rendervi conto la dimensione del divoratore di mondi sappiamo che in game o meglio nei file di gioco sono presenti anche alcune porzioni della probabile skin di galactus perché era già stato semi confermato il discorso dell'arrivo dell'outfit di galactus questa è la testa mentre qua abbiamo semplicemente una ripresa dall'alto insomma dalla visuale di galactus e questa dovrebbe invece essere la renderizzazione 3d dell'outfit dicono che sia abbastanza grosso quindi ci aspettiamo ovviamente una skin con una hitbox importante ma quello che a noi interessa è sapere quando arriverà il galactus in realtà sappiamo solo che delle voci dicono che l'evento di questa season che appunto vedrà coinvolto il galactus dovrebbe essere circa una settimana prima del 30 novembre quindi si parla in un periodo che va dal 20 al 23 novembre non ci sono date ufficiali non ci sono dichiarazioni da parte di fortnite quindi io vi invito sempre ad attivare la campanella e a seguire i miei video news in modo che appena so qualcosa la sapete anche voi e andiamo verso la fine del video facendovi vedere una cosa un pochettino più curiosa e divertente quello che state vedendo dietro di me è come gli addetti alla creazione delle espressioni facciali delle skin riescono a far sì che le espressioni avvengano quindi come vedete indossano una specie di sensore molto particolare e guardatela questa prima faccia che è veramente meravigliosa in base a come loro si muovono viene data espressività anche a tutte le altre skin insomma ragazzi io per oggi le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi i miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao